Stiamo cercando aziende IT pronte a diventare partner di LutinX. La proprietà intellettuale è in pericolo senza una protezione adeguata. Le aziende creative e di ricerca hanno bisogno di soluzioni sicure. LutinX utilizza la blockchain per proteggere idee, progetti e proprietà intellettuali, fornendo sicurezza e trasparenza. Siamo alla ricerca di partner nel settore IT per distribuire le nostre soluzioni. Questo è il momento di espandere la tua offerta e crescere con noi. Con LutinX potrai offrire un prodotto richiesto sul mercato, con guadagni dal 10% al 60% su ogni licenza venduta. Offri una soluzione innovativa e amplia il tuo portafoglio. I nostri partner stanno già facendo la differenza, supportando clienti di alto valore e vedendo crescere il loro business. Porta la protezione della proprietà intellettuale nel tuo territorio. Diventa distributore di LutinX oggi stesso.